Se non è così, se vi ammazzate tutti e due, è perché te stesso non sei convinto di aver detto. Funziona così, è incredibile. Allora, non obblighiamo l'altro a votare per te, perché tanto questo non capisce, ma te fai qualcosa dentro di te per cambiare il mondo esterno, cioè il filo dei color test, maiale come l'ho detta bene, cioè veramente io potrei vendere i frigoriferi in Alaska. Arriva il mondo felice. Il mondo felice è già qua, solo che noi non lo vediamo perché non ne abbiamo la consapevolezza. Quanto manca? Quanto manca? Un miliardesimo di secondo perché nell'universo il tempo non esiste, quindi a noi ci sembra che possa mancare un anno, un mese, un giorno. Ma in realtà non è così. Grazie. Però il professore è quello che vuole fare delle prove. Io nel mio piccolo sto, mi sto programmando e metto i soldi e mi sono arrivato a entrare. Assolutamente. Allora io acquisisco forza sul suo sistema e poi trasmetto quel sistema. Assolutamente. Assolutamente. E' così. Quando uno comincia a comprendere che lui è il fautore della sua realtà, che comincia a fare questi strani piccoli miracoli, gli dici, ma capitano, lo sai, stavo pensando a Giuseppe, Dringa, sono andato in telefono, sarà un caso. Dopo la quinta volta che ti succede cominci a comprendere che sei in te. Ecco, in quell'istante che te cominci a comprendere questo, il fenomeno ti appare sempre di più. E comprendi che ti appariva anche prima, ma non te ne accorgerebbe. Cioè, te i miracoli li stai facendo sempre, li hai sempre fatti, solo che non te ne sei mai accorto. E questo è il problema. Ovviamente, se ti fai i miracoli, allora il Papa non serve più. E il Papa non vuole che tu fai i miracoli. E il Papa che cosa dice? Non pensiate di fare un percorso di autocoscienza da soli. Vi dovete rifugiare sempre nella figura di Gesù Cristo. Così ha detto il Papa. E no, no. Cioè, Gesù Cristo ha fatto i casi suoi, è bellissimo, è un verino, è un tanto contento. Prima o poi va in pensione Gesù Cristo, poi va in pensione Buddha. Buddha mandiamolo in pensione. Buddha se ha capito tutto, se è seduto sotto il sicomoro, il sicomoro lì e ha contemplato l'universo. No. Devi fare qualcosa. Hai capito tutto? Fai. Cioè, se stai fermo, è come se qualcuno da piano di sopra ti avesse detto, sì, ora hai capito tutto, però mi raccomando non mi rompre le palle a me, quello del piano di sopra. E Buddha si è fermato. Noi siamo oltre Buddha. Ma il motivo fondamentale è anche perché noi siamo Buddha. Ma è passato del tempo, nello spazio tempo, il tempo passa. Buddha è vecchio. Noi siamo anche Buddha, ma nel frattempo abbiamo acquisito più consapevolezza di noi. Quindi siamo andati avanti. Non si deve pensare che Siddhartha era lì. Siddhartha era lì e noi siamo qui, un po' più avanti. Cioè, bisogna rendersene conto perché se noi pensiamo che Siddhartha sia irraggiungibile, siamo fregati. Noi l'abbiamo raggiunto e superato. E non c'è niente di male. E non c'è niente di male. Noi siamo anche Buddha. Ma come un bambino piccolo. Buddha è il nostro bambino piccolo che eravamo una volta. Ora siamo andati avanti e sappiamo un pochino di più. Che problema c'è? L'universo imploderà? Imploderà l'universo? Imploderà? Finirà? C'è una risposta? Dai. Dunque, finire vuol dire anche cominciare. Quindi è un concetto duale. L'universo è un universo olografico, virtuale, nel quale c'è un inizio e una fine perché noi lo abbiamo costruito così. Quando noi abbiamo imparato, questa è la realtà virtuale, abbiamo imparato a modificare la realtà virtuale, a farla, a costruirla, a sapere com'è fatta. L'universo ne possiamo fare quello che vogliamo. Lo possiamo far finire, lo possiamo far continuare, lo possiamo far duplicare. Noi siamo i creatori dell'universo. Il problema è certo. Perché ci dobbiamo dare sempre le martellate sulle palle? Cerchiamo di dire che la giostra l'abbiamo costruita noi. La giostra l'abbiamo costruita noi. Poi in qualche modo c'è stata una serie di eventi che ce l'hanno tolta di mano e noi abbiamo lasciato che le cose andassero così perché era importante che la giostra ci venisse tolta di mano. Perché noi dovevamo comprendere e ricordare che un giorno avremmo ripreso la giostra che avevamo costruito noi. Ma per fare questo dovevamo passare attraverso il fatto che qualcuno ce la togliesse di mano. Ora, la giostra la stiamo riprendendo in mano. Beh, prima di andare in pensione e di spegnere la lucina dell'universo mi dice fa qualche giretto. Questo potrebbe essere il mondo felice. Poi è talmente divertente che magari decido sempre di dire, ma già che ce l'abbiamo fatto questo universo, teniamolo. Ma l'anima, quanto facciamo l'anima? L'anima è immortale. Il che vuol dire non eterno, è immortale. Immortale vuol dire che la costruzione dell'anima è una costruzione di tipo vettoriale, cioè inizia e finisce. Inizia all'inizio del tempo, finisce alla fine del tempo. Ma quando finisce la parte animica, che tutto l'universo si chiuderà, ci rimarrà la coscienza. La coscienza è eterna. L'anima è immortale. Sono due concetti differenti. Che differenza c'è tra immortalità e eternità? Ammettiamo che io sono immortale. Se a me non mi rompono le pade, io vivo per sempre. Se però attraverso la strada e qualcuno mi mette sotto, muoio. Ecco, questo è l'immortale. L'eterno, anche se mi mettono sotto, non muore. Non può morire. Non c'è la morte. Sostanzialmente noi siamo noi. Se la nostra coscienza si riforma a una coscienza intera e torna a essere tre, da tre diventa uno, dall'immortalità dell'anima passiamo all'eternità della coscienza. Quindi non c'è più nessun problema. Non c'è mai stata poi la morte in questo universo. Perché l'universo non è mai iniziato né finito. perché uno non sono due o tre. Quindi se c'è l'uno, c'è solo quello. È come dire io mi sento solo. Come ti senti solo? Te ti senti solo se sei in due e la tua seconda parte non c'è e allora tu ti senti staccato, diviso da quella tua parte. Cioè stai vedendo il mondo diviso. Se te sai di essere unico, essere unico non può essere solo. Che fai? Ti sono di se stesso. L'unica cosa che c'è che la porti sempre con te. Non puoi essere solo. Allora la solitudine è l'idea dell'avere qualche cosa che ti manca. Se te c'hai qualcosa che ti manca, vivi nella dualità. Cioè non hai compreso. Perché te sei un essere unico. non hai bisogno di niente. Se non hai bisogno di niente, non c'hai neanche bisogno dell'amore di un altro. Perché l'altro non c'è, sei sempre te, eccetera, eccetera, eccetera. Questo anche lo trago scienze al gemello. Assolutamente. Poi ne parleremo magari. È il discorso dell'universo che c'è la teoria di pluri-universi non è unico. Dicono che ce ne sono paralleli a noi. La teoria di pluri-universi è un tentativo. Allora, gli scienziati cercano in tutti i modi di farsi quadrare i conti. Una delle possibilità di farsi quadrare i conti e quindi poi andare verso il mondo felice, cioè le video dell'universo che noi abbiamo scritto, è anche l'idea dei pluri-universi. Perché? Perché ognuno di noi è un universo, è una bolla. Cioè questo è un universo inflazionato. Noi dobbiamo capire che tutti questi universi inflazionati si sentono diversi solo perché hanno consapevolezze differenti. Quando si uniscono insieme, non avete mai visto due bolle che si aprono e si formano una bolla sola? Perché la tensione di vapore esterna della prima e della seconda bolla è diventata uguale. Siccome la tensione di vapore ha a che fare con la coscienza, sarebbe un problema, però si può dimostrare questo fatto qua. Perché è un modello della coscienza che ha a che fare con la realtà della superficie delle cose e non con il volume, con la superficie delle cose. Ecco che il modello del pluridiverso rappresenta in realtà la società che abbiamo oggi. Ok. Così, e che difesa c'è tra una palla di vetro e una sfera di cristallo? Da un punto di vista chimico, cioè una sfera di cristallo costa un sacco di soldi, una palla di vetro costa cinque lire. Già questa sarebbe una bella differenza. Come consistenza una sfera di cristallo ideicamente, la sfera di cristallo è qualcosa che tu pensi di pregiare. La palla di vetro è qualcosa che tu pensi di una imitazione, ma che in realtà non è. Ah, quindi sotto il tempo è poco pregiato e che ne raffine. Quello, il nostro cervello vede le cose nella realtà virtuale, quindi le vede come le sa leggere, come le sa vedere. Quindi vede i colori, vede le forme, vede le... ma queste cose in realtà non esistono. Il nostro cervello è un lettore di hologrami. Questo si vedrà bene a Pescara quando farò quella conferenza il 23 agosto. Mi sembra che sia il 23 agosto. Senta, ma non c'è stato nel passato un uomo che è riuscito a, diciamo, a elevare la falsa pevorezza, che ha provato a modificare... Ci sarà sicuramente stato. Però era solo, diciamo... Può darsi che non fosse il momento. Cioè, i greci, che sono gli antichi greci, avevano tre visioni del tempo. Il tempo chronos, il tempo meteorologico, e anche un terzo tempo, cioè il fatto. È il momento che le cose accadano. Cioè, se il momento non c'è, le cose non accadono. E questo ha a che fare con la consapevolezza. Probabilmente non ce la faceva da solo, anche in assoluto. Ora, io devo dire che ne basta uno, secondo me, ma non tanto perché lui sia la driving force per fare... per tirare il carretto, perché da solo te il carretto non lo tiri, però metti a disposizione il tuo punto di vista e lo metti a disposizione di tutta la cascia, si potrebbe dire così, di tutto l'universo. Sta alla buona volontà degli altri andare a guardare e a leggere gli altri. Forse adesso il tempo è maturo proprio che internet per sé, c'è facilità di comunicazione che una volta non c'era, uno si elevava e non sentiva nessuno. Perché questo è legato a un problema fondamentale, che è il problema dell'entropia. Allora, io sono il governatore di questo universo. Per governare l'universo devo tenere l'universo separato, perché se no l'entropia aumenta. Allora, nel tentativo di tenerlo separato, in qualche modo faccio di tutto. Mi invento internet per riuscire in qualche modo a controllare il pensiero di tutti e sapendo che te la pensi come lui, allora se vi trovate li mettete insieme, allora io agisco su di te per fartela pensare in modo diverso. Bene, in quel istante siccome l'entropia se ne fotte di quello che te fai, trova il sistema in automatico di tamponare la situazione. Chiunque ti fa del male, ti fa del male, ma non fa altro che accelerare il processo di guarigione. Incredibile. Questo si vede anche sostanzialmente in tutti i processi, anche nei processi di acquisizione di consapevolezza. Te mi riferisce perché non sai che tua moglie ti fa le corna. Io vengo da te e ti dico tua moglie ti fa le corna e te ti incazzi e ci stai male. Però hai capito. Cioè nell'istante in cui io ti voglio fare uno spregio, ti voglio far star male, ti voglio far diminuire la tua entropia all'interno, alla fine l'entropia aumenta sempre. Noi potremmo non fare niente, che andrebbe bene lo stesso. Ma qual è la differenza? Fiamo qualcosa così ci togliamo dalle palle questo posto il prima possibile e lo ricostruiamo nel modo migliore, il mondo felice. Sennò è inutile che io mi lamento dei politici italiani se continuo a delegare loro di governare al mio posto. Due più due non fa 19. No. Qual è la seconda domanda? Sì eh. Va bene. Ci vuole la domanda di riserva, ci vuole. Me la cavo, no 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 me la cavo. Che poi l'entropia poi di noi localmente però. Localmente? Però non globalmente. Non globalmente, certo. E nell'istante in cui diminuisce in quel punto, in quel momento, c'è qualcuno che sta tentando di fare questo perché non è un processo spontaneo. Il processo spontaneo va sempre nella direzione opposta. Come dico io, quando uno si ammala, le cellule del corpo diminuiscono di entropia, le cellule malate. Diminuiscono di entropia. Cioè aumenta il loro disordine. Per esempio, basta vedere la temperatura delle cellule che sale. Quindi diminuisce, sale l'energia. Nel salire l'energia fa diminuire l'entropia perché c'è un segno meno davanti. Bello. Questo vuol dire che il processo di guarigione è un processo spontaneo. Il processo della malattia, della malattia, sì no. E invece sembra il contrario. Sembra che te ti ammali ogni 5 minuti e puoi guarire un casino. No, perché te ti stai dando le martellette sulle palle da solo. Tutte le volte che pensi di ogni uguarire, in automatico un altro pensiero scappa dentro di te. Ma figurati se ce la faccio. E così sei te stesso che fai miracole contro miracole. Se ti va bene, rimaniti. Se ti va bene, se no ti ammali. Uno dei principi dell'entropia non è la tendenza alla dissoluzione. Alla dissoluzione che vuol dire? C'è che naturalmente, in condizioni normali, la natura va verso la dissoluzione. O me la ricordo male. No, no, dunque, ragioniamoci sopra. Cosa dice Iliaprigoci? Iliaprigoci diceva che il processo spontaneo è quello di morire, non quello di nascere. In quel senso lì, in quel senso lì, l'entropia va verso la direzione di rendere l'energia del sistema zero. Con che problematiche? La densità dell'universo diventa tutto uguale, non ci saranno più spazi vuoti, spazi pieni, la temperatura si abbasserà fino allo zero assoluto. E nell'istante in cui tutto si abbassa fino allo zero assoluto, voi vedete che nell'universo non locale, se fate i conti, vedete che le cose si riuniscono insieme. Tutte ritornano a congelarsi in un unico istante, in un unico punto spazio-temporale. Quindi l'abbassamento della temperatura, l'abbassamento dell'energia, l'aumento dell'entropia produce unificazione. E da questo punto di vista la temperatura è una misura della distanza delle cose. Le cose più bollono, più... Ti metti delle molecole di gas in un pallone e lo scaldi, le molecole cercano di allontanarsi il più possibile. Cioè, è anche da un punto di vista cinematico la cosa. La reincarnazione esiste? La reincarnazione? No, tutto accade in un unico istante. Cioè, la reincarnazione è legata all'idea che io possa morire, nascere, morire, nascere, morire, nascere. Questa sarebbe una scala temporale. Il tempo non esiste. Tutte le reincarnazioni, tutte le vite accadono in un unico istante. Dove la mia coscienza, la mia parte animica, nel tempo, entra in tutti i contenitori. Ora, 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 qui, 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 ora, qui. E poi ritorna, ora, qui, ora, qui, ora, qui, ora, qui, talmente velocemente te e te non ti rendi conto che la tua coscienza sta da un'altra parte ogni miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondi. E quindi? Quando il percorso di Triade Colortes viene effettuato tutti questi contenitori si unificano insieme non ci sono più le tue vite passate nell'antico Egitto. Te sei solo te. Quando c'è un solo contenitore, finalmente, quello è l'ultimo. Andiamo. Grazie. Grazie.